Siamo tornati in diretta dopo il nostro telegiornale Occhio alla Notizia per un nuovo appuntamento con Primo Cittadino, quindi do subito il benvenuto all'ospite di questa sera, il sindaco di Vallefoglia Palmiro Occhielli. Sindaco, buonasera e bentornato nei nostri studi. Ricordo come sempre i numeri di telefono per intervenire 0721 86 14 33 oppure potete inviare un messaggio anche con Whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, le Marche oggi sono ritornate in zona gialla, un primo passo secondo lei verso la normalità, dobbiamo ancora fare attenzione soprattutto qual è la situazione nel vostro comune? Ma è una buona notizia, dobbiamo stare sempre molto attenti. Nel nostro comune abbiamo un terzo dal punto più alto dei contagi, che erano circa 140 contagi, poco meno di 50. Questo non significa che non possiamo ancora migliorare per tornare alla zona bianca e poi aspettare che arrivino i vaccini per ritornare in situazioni di normalità, riprendere il lavoro a pieno nelle aziende e così via. Ecco, quindi direi che bisogna soprattutto i giovani, ma non solo i giovani, cercare di evitare assembramenti, mantenere le mascherine, le cose che sappiamo, insomma, igienizzazione, distanziamento, eccetera, insomma. E quindi devo dire anche che insomma c'è stata una buona attenzione da parte dei cittadini, se no non calavamo così in maniera vistosa, un po' sono serviti i tamponi che sono stati fatti, anche se la percentuale non è stata altissima. Anche lei ha dato il buon esempio, perché si era sottoposto al test? Ma io penso che bisogna sempre dare il buon esempio, se uno dice una cosa bisogna farla e se la dici agli altri, prima di tutto lo devi far tu, ho fatto anch'io il tampone. Risultato negativo? Risultato negativo, appena arriverà il vaccino, quando sarà il mio turno farò il vaccino e spero che tutti lo facciano. Che cosa ne pensa di questi ritardi che ci sono? Ma i ritardi io direi che è un po' come quando sono state le prime mascherine, poi erano in tanti che sono riuscite a produrle le mascherine, il vaccino è un po' più delicata, però è chiaro che le aziende che sono poche che producono nel mondo, speriamo che arrivi anche quelli italiani della Spallanzani, in maniera tale che in unica dose si possa avere i vaccini nel giro di un po' di mesi a sufficienza per poterlo fare a tutti gli italiani e ritornare alla situazione di normalità sapendo che comunque è stata una botta da 90 e che dobbiamo riprendere l'economia a pieno per recuperare quello che abbiamo perso in questi mesi. Poi parleremo anche di lavoro perché so che è un argomento che a lei sta molto a cuore, ma quindi bisogna appazientare ancora un po'? Sì, bisogna appazientare, bisogna pretendere che rispettano gli impegni e soprattutto dobbiamo sperare che tutti quelli che sono in grado di produrre i vaccini li possano produrre quanto prima e con tutte le autoriduzioni necessarie. Io penso che noi dovremmo utilizzare tutti i vaccini che ci sono in giro per il mondo, non fidarsi solo di un luogo, di un paese. Ecco, penso questo, che la competizione fa bene anche in questo campo e quindi speriamo di averli quanto prima e speriamo che tutti facciano il vaccino perché chi non lo fa danneggia poi gli altri, insomma. Ecco, non è obbligatorio, però è come se fosse obbligatorio. Per quanto riguarda invece lo screening, quanti cittadini si sono sottoposti al tampone? Una buona adesione c'è stata? Sono stati circa 4.000 cittadini in un'area abbastanza importante, la percentuale non è stata alta, però consideriamo che quella è una zona industriale dove girano, diciamo, lavoratrici e lavoratori da tutta la provincia e un po' anche dall'Emilia-Romagna e che le aziende, come hanno avuto un caso, hanno fatto i tamponi, li hanno fatti nei laboratori privati dove gli è capitato e quindi gran parte della gente aveva già fatti i vaccini. Anche perché nelle aziende spesso li fanno anche regolarmente, quindi sono controllati. Devo dire che le aziende sono state molto attente e le aziende che hanno una dimensione internazionale hanno speso anche, hanno investito pur di lavorare e di continuare a lavorare quasi nella normalità. Abbiamo visto anche questa sera nel corso del nostro telegiornale un'importante crisi economica. Voi avete consegnato proprio ieri dei buoni spesa. Sì, noi abbiamo concluso, oltre che l'assistenza dal bilancio, che è un paio di milioni di euro all'anno, anche nel bilancio 2021 che abbiamo appena approvato, gli oltre 200 mila euro di buoni spesa. Ieri mattina sono stati consegnati gli ultimi 33-33 mila euro a tutti, manca qualcuno che deve ancora venire a ritirarlo, però in buona sostanza e in velocità supersonica, anzi colgo l'occasione per ringraziare i volontari della protezione civile, gli schierabinieri perché ci hanno dato una mano, tutto fatto col volontariato e in tempi rapidissimi. E poi erano distribuiti tramite delle card, giusto? Sì, da 100 a 400 euro se non ricordo male. Tramite delle card che insomma consente di spendere nei negozi. Magari nei negozi del posto? Sì, tutta la spesa, noi abbiamo fatto anche il manifesto, spendete nella realtà nostra, insomma, il più possibile, tutti quelli che vengono lì. Negozi di vicinato? Anzi, devo dire che in quell'area nostra vengono anche da Pesaro, insomma, sono molti centri commerciali che vengono, devo dire che tutto sommato anche con i contagi, la gente che circola è andata abbastanza bene, nel senso che circola tanta gente, è un'area che ruota attorno alla piazza di Montecchio circa 50 mila abitanti, più tutti quelli che vengono a lavorare da quasi tutta la provincia. Sindaco, subito un ringraziamento per lei e in merito alla promessa di aver portato a termine la graduatoria in essere per l'assunzione della polizia, ci dicono. Quella è un'altra delle questioni, quella della sicurezza locale, delle attività commerciale. Noi abbiamo detto una cosa e quella abbiamo fatto, abbiamo detto che avremmo utilizzato la graduatoria per la polizia locale e a mano a mano che ci sono stati degli spostamenti abbiamo utilizzato la graduatoria. È una questione di serietà e quando dice una parola uno deve essere quella. E lei l'ha mantenuta in questo caso? Ho citato prima i volontari, però anche il ruolo delle forze dell'ordine è fondamentale. È molto importante, soprattutto in un momento come questo, soprattutto i vigili, ma anche i carabinieri, le altre forze di polizia che danno un conforto, al di là di chi delinque, insomma, ecco, danno un conforto alle comunità, ai cittadini, intervengono per qualsiasi emergenza, quindi è molto importante. Parliamo un attimo del biodigestore, perché sono state consegnate oltre 5.000 firme, 5.080, perché? Perché tante persone sono contrarie. C'è chi chiede innanzitutto un confronto con i cittadini, quindi un incontro pubblico. È stato proposto anche di inserire all'interno del CDA dell'azienda che poi andrà a gestire questo biodigestore un rappresentante dell'amministrazione comunale. Che cosa ne pensa di questo e che cosa sta succedendo? Intanto Marche Multiservizi ha avanzato questo progetto, se lo avanzava da un'altra parte noi eravamo più contenti, però, insomma, questo è, la provincia dovrà esaminare il progetto, noi abbiamo chiesto la valutazione dell'impatto ambientale, perché la salute e l'ambiente sono le prime cose da tutelare, ovviamente vedranno anche la compatibilità con la programmazione regionale, e poi, insomma, ci sarà tempo per fare in modo che ci siano tutti i luoghi della partecipazione. Certamente adesso è un po' più complicato, perché, insomma, io penso che sia importante anche andare a vedere i luoghi dove questi sono stati realizzati. E poi il comune che non decide perché esprime solo un parere, noi ci valuteremo se esprimono favorevole o contrario, ma chi autorizza non è il comune, è la provincia, e la regione può dire fortemente la sua, perché deve valutare se è conforme alla programmazione regionale, insomma, quindi, quando c'è un impegno dei cittadini è sempre importante, e quindi noi staremo molto attenti per qualsiasi attività prevista dalle norme legislative, che la salute, come ho sempre detto, l'ambiente, la tutela del paesaggio e il lavoro e l'occupazione vanno a braccetto, quindi bisogna farle, diciamo, convivere fra loro. Ecco, ancora manca questo vostro parere definitivo. Lei è a favore o è contrario? Ma intanto noi abbiamo chiesto la valutazione dell'impatto ambientale. Alla fine del percorso sentite tutte le opinioni, per esempio, dell'ASUR, dell'ARPAM, di tutti quelli che sono della viabilità dell'ANAS e della provincia, perché i problemi della viabilità. Poi c'è un'ipotesi deliberata dal Consiglio Comunale di Pesolo di una disponibilità anche di realizzarla a Pesolo, quindi non so come finirà. Poi noi alla fine diremo, ma è un parere del Comune... Non vincolante. Non è vincolante, quindi tu puoi dire di no, però se è conforme alle norme di legge potrebbero realizzarle uguali. Però noi ci siamo riservati di valutare alla fine di un percorso, come abbiamo preso l'impegno con il Consiglio Comunale. Ecco, avete anche sollecitato Green Factor, che è la società proponente, a istituire un portale online dedicato, invitando quindi i cittadini a parlare, a rivolgersi direttamente a questa società. È fattibile? Sì, noi abbiamo fatto due cose. Una, abbiamo chiesto all'attuale impianto di biogas di togliere i cattivi odori, di stare dentro le norme, cosa che hanno sempre cercato di rispettarle, anche se i cattivi odori ci sono. Poi abbiamo detto che istituissero questo portale. Poi abbiamo fatto una sera in videoconferenza, abbiamo fatto illustrare il progetto, abbiamo sentito il presidente della comunità di quello realizzato a Gubbio, abbiamo sentito il parere dell'università, abbiamo cercato di far sentire tutte le campane tra quelli che dicono di no e quelli che dicono che è uno strumento meno inquinante, meno problematico degli inceneritori o delle discariche tradizionali e poi alla fine diremo la nostra. Come mai comunque anche, vabbè, adesso c'è stato il problema della pandemia, però anche un incontro ad esempio in via telematica, un confronto con i cittadini, qualche esperto che potesse spiegare le caratteristiche dell'impianto? Ma questo noi l'abbiamo già fatto, abbiamo chiesto a Marche Multiservizi, all'Università di Urbino, ai propositori del progetto, alla comunità dove è stato realizzato un impianto di questo tipo e poi chi invece si oppone ha già fatto una propria iniziativa, adesso si tratta di vedere come promuoverne altre e magari perché no andare a vedere dove sono stati realizzati questi impianti, se tutelano come devono tutelare, perché nessuno autorizza oggi un capannone qualsiasi che non sta dentro le norme di legge e poi noi non è detto che diciamo di sì, è probabile che alla fine diremo alla fine del percorso anche di no, però ecco non decidiamo noi, perché se decideva il comune aveva già deciso. Certo, quindi queste firme insomma sono state raccolte anche un po' consegnate simbolicamente? Beh, sono state raccolte manualmente parlando con le persone, ma anche online e quindi anche al di fuori del territorio della città di Vallefoglia come normale in una vallata. Sindaco, invece per quanto riguarda il contratto di fiume, questo contratto fondamentale ed è anche il primo, il primo poi che è stato concretizzato dall'Unione dei Comuni. Ma è un contratto di fiume molto importante, un lavoro di quattro anni di regione, comuni, provincia, università, associazioni di categoria del mondo delle imprese, diciamo le organizzazioni del mondo sindacale, rappresentanti dei lavoratori e concluderlo tra i primissimi delle Marche, se non i primi delle Marche, l'abbiamo approvato all'unanimità, consente di utilizzare le risorse, per esempio, per il risanamento ambientale dell'asta fluviale e del Foglia e anche dell'Apsa e del Tavollo, perché riguarda anche i comuni di Capice, Gradara, Tavuglia e i comuni di Petriano, vuol dire avere tre depuratori, uno a Borgheria, a Pesero, uno a Montecchio e uno a Schieti, che depurano tutta l'asta fluviale del Foglia, vuol dire avere una mobilità pedonale ciclabile da Pesero fino a Carpegna, vuol dire avere un unico sistema di protezione civile, insomma è uno strumento molto importante, sono diversi milioni di euro di investimenti che stanno andando avanti e altri che possono essere attivati, il Tred Union e la Regione, insieme all'Unione dei Comuni, io e l'Assessore Aguzzi abbiamo presenziato e abbiamo attivato tutte le procedure, si pronunceranno anche i consigli comunali di una quindicina di comuni e poi l'interlocuzione con i ministeri, con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero per le Infrastrutture e soprattutto con l'Europa, perché tutta questa discussione che fanno in questa crisi di governo, i fondi dall'Europa, i fondi seppur in deficit dai ministeri, ne arriveranno tanti, quindi avere i progetti pronti come nel contratto di Fiume Foglia, di Fiume Aps, di Fiume Tavollo, vuol dire avere la capacità di investire milioni di euro, di creare lavoro, tutela ambientale, benessere e tutela della salute delle persone. Una parentesi, perché poi vorrei un attimino ritornare anche su questo argomento, che cosa ne pensa di quanto sta accadendo a livello nazionale? Io penso che aprire una crisi in una fase come questa sia profondamente sbagliato, sbagliato. Al di là delle ragioni, spero che si ricomponga quanto prima una maggioranza di governo e che possa andare fino al 2023, in maniera tale che tutte quelle risorse a cui facevo riferimento qualche istante fa possano essere utilizzate e utilizzate per far crescere la comunità, perché affianca la pandemia e noi rischiamo di non uscire dalla crisi economica che era prima del Covid. Quindi poi fondi che potrebbero anche tardare? Questi fondi, se si ricompone subito una maggioranza di governo e in grado di attivarli immediatamente, sono posti di lavoro, sono sviluppo, crescita, benessere, sono opportunità per i cittadini e per la comunità. Quindi è molto importante, non è un caso che dopo 4 anni abbiamo chiuso, e non dico in 4 ore, meno, in un'oretta, un'ora e mezza, il contratto di fiume con centinaia di milioni di euro già in parte in corso d'opera e altri che possiamo attivare. Ecco, si parla più o meno di 165 milioni di euro per 99 interventi, questo è quello che prevede il programma di azione, così viene definito. Quindi, insomma, poi sparsi per tutti questi comuni e degli interventi, come diceva lei, importanti dal punto di vista ambientale e non solo. Importanti anche perché sono largamente condivisi, poi probabilmente quando vanno nei consigli comunali magari arricchiranno ancora di più, integreremo, implementeremo, però c'è stata una larghissima condivisione e quindi, diciamo, fa predisporre bene le pratiche nel rapporto con i ministeri, nel rapporto con l'Europa, per attivare le risorse, spendere, spendere velocemente. Ecco, Sindaco, invece per il polo tecnologico? Il polo tecnologico è una cosa importante, in centro, diciamo, di vendita di Pisarum, ex cantina sociale di Morciola, e diciamo un trade union fra la regione, io ho ringraziato l'assessore regionale che mi ha risposto il giorno dopo e gli ho inviato una lettera, io ho fatto un lungo colloquio a nome della nostra amministrazione, della Giunta, del Consiglio, col Rettore dell'Università d'Urbino, c'è una disponibilità della Banca di Peso, insomma, si può costruire un polo di ricerca scientifica, tecnologica, dell'agra alimentare, perché a proposito di tutela della salute vuol dire anche cosa mangi poi quotidianamente quando vai nel mercato, se tutti gli sfiuti delle zone industriali, dei nostri bruciatori, delle macchine e così via, ricadono nei prodotti dell'agricoltura che vanno sui tavoli, in conto è monitorare con l'Università d'Urbino, come noi stiamo facendo, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, e avere risorse europee per un progetto dell'agricoltura, di tutta la vallata del Foglia, che sono quasi 200 mila abitanti, ma perché no per il resto della provincia e delle Marche, insomma, un luogo in cui si analizza che cosa serve, quale tipo di agricoltura, perché lì per esempio il Consorzio Bonifero ha fatto un investimento di milioni di euro su un megatubo che porta acqua fino a Pesero, dall'invaso di Rio Salso, è previsto altri 2 milioni di euro di investimenti per approfondire l'invaso, quindi è importantissimo il polo tecnologico di Morciola, ho visto che la Regione ha dato una sua disponibilità, noi siamo contenti, io ho ringraziato, perché bisogna in questo mondo di ingrati anche ringraziare, io sono di quelli che ringrazio. Ecco, leggevo in questi giorni nei quotidiani che anche Carloni ha speso delle belle parole, ha dato una disponibilità a confrontarsi con voi, quindi adesso bisognerà passare dalle parole ai fatti. A me ha fatto molto piacere anche la tempestività, perché è una questione di stile anche, se uno scrive a me o telefona a me io rispondo subito. La tempestività e la risposta a me ha fatto piacere e speriamo di poter collaborare e costruire cose buone. Tra l'altro una piccola curiosità, ci racconta spesso che lei si sveglia molto presto, il mattino è sempre reperibile, disponibile con tutti, giusto per raccontare a casa anche il lavoro che svolge un sindaco. Prendo gli assessori una prima mattinata, quando sono appena svegli. Li sveglia lei. Parlavamo prima di cibo, anche di sana alimentazione, avete portato il pesce azzurro nelle mense, questo per i più piccoli, no? Sì. Quindi l'attenzione anche nei loro confronti. Parafrasando col pesce azzurro fanese della riviera adriatica, pensiamo che il pesce azzurro sia intanto una novità per quelle aree, insomma per le scuole, era fortemente sollecitato anche dalle famiglie, soprattutto dalle mamme, fa bene alla salute e quindi speriamo che sia veramente gradito, insomma. Ci dicono, sindaco, poi chiudiamo anche questo argomento, un incontro in contraddittorio con i fautori del sì e del no, non è mai stato fatto, e quindi di chiedere informazioni tramite un portale di proprietà dell'ente proponente, come chiedere all'osso e se il vino è buono, questo è un po' un conflitto di interesse, che cosa ne pensa? Ma è un portale pubblico, per la verità, faremo anche un confronto, adesso non so quali sono i tempi per la valutazione dell'impatto ambientale, io penso che bisogna fare anche la valutazione strategica, quindi il tempo che ci vuole, se alla fine dovrà rimanere lì, non lo so, perché non è escluso anche che si possa fare da un'altra parte, insomma, quindi, però ecco, va bene anche in contraddittorio, non c'è nessun problema, è giusto che la gente abbia tutti i punti di vista, che se ne faccia un'idea, e poi chi deve decidere, decide, insomma. Sindaco, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torneremo, perché abbiamo ancora tanti altri argomenti da affrontare, dal lavoro alla ferrovia Fannurbino, in questa metropolitana di superficie, poi il bilancio asfalti, quindi rimanete con noi. Bene, siamo ancora in diretta con il sindaco di Vallefoglia, io direi di ripartire dalla ferrovia Fannurbino, o meglio una metropolitana di superficie, alla quale lei è favorevole. Sì, io ho chiesto a nome della giunta e dell'amministrazione, alla città di Vallefoglia, di estendere lo studio di fattibilità della Pesero, Fano, Fossombrono, Urbino, Montecchio, Pesero, cioè un anello di circa 100 chilometri, che può essere importante, la metropolitana fuoriterra, per il trasporto delle persone, perché no, anche delle merci, l'80% dell'economia sta nella vallata del foglia e del metauro, ecco, quindi, riteniamo sia estremamente importante, è stata approvata una mozione, diciamo, nel Senato della Repubblica, e quindi spero, insomma, che venga accolta positivamente, ho mandato una lettera all'assessore regionale, che spero risponda fra qualche giorno. Lei è solito inviare queste lettere, insomma? Ma è un'interlocuzione, uno telefona, manda le lettere, manda il messaggio su WhatsApp, oggi gli strumenti di comunicazione, sono tanti, tutti quelli che vogliono parlare con me, come ricordo sempre io, 338-84-60162, tutti quelli che vogliono parlare, possono parlare tutti i giorni, direttamente con il Sindaco. Quindi, spero che l'assessore Baldelli, che se si ricompone questa crisi di governo, al nuovo Ministro per le infrastrutture, ecco, possa prendere in considerazione questo fatto. C'è anche un'idea, che discuteremo alla prossima, anzi, a fine di questa settimana, che è il collegamento Pesro-Urbino, esatto, nel rapporto con la capitale europea della cultura, e poi io ho fatto... Dicevamo prima di andare in diretta, voi siete un po' nel mezzo, quindi... Sì, noi abbiamo, mi ricordo il progetto Macchi, da quando era assessore dei lavori pubblici in provincia, che prevede il raddoppio della Pesro-Urbino-Grosseto, con tutte le soprelevazioni, e questo credo, l'ha detto l'altro ieri il Sindaco d'Urbino, io condivido, ci vedremo insieme alla provincia e alla regione, perché se abbiamo i progetti pronti, noi concorriamo alle opportunità dell'Europa, e quindi avere un anello che fa appunto da Pesro-Urbino-Montecchio-Pesro, e avere i collegamenti Pesro-Urbino-Veloci, con tutte le soprelevazioni, sono circa 40 chilometri, noi siamo nel mezzo, i rapporti sono notti, fra Giovanni Santi, che è nata col bordo, e Raffaello Urbino, Giulio Perticare, 200 anni, 2022, della morte e i legami con Rossini, abbiamo sottoscritto con il Sindaco di Pesro-Urbino, un accordo nella Chiesa Sant'Egidio, che si aprirà come museo a breve, dato che si può ritornare anche nei musei, sempre nel distanziamento, le cose che conosciamo, quindi c'è una doppia opportunità, questa metropolitana leggera, e il potenziamento della Pesro-Urbino, non è un caso, insomma, che noi siamo proprio nel mezzo, quindi diciamo... Quindi verrebbe utilizzata, secondo lei, effettivamente? Secondo me sì, bisogna fare sempre degli studi economici, veloci, però bisogna avere i progetti, bisogna rispolverare tutti i progetti che ci sono, del resto, quelli di una volta, come si dice, ma avevano qualche idea, perché avevano una ferrovia che passava nelle aree interne e andava fino a Sant'Arcangelo, addirittura c'è ancora il buco della ferrovia che viene a finire a Trasanne, da Urbino, quindi Urbino... Ma poi con il passaggio a livello, insomma, ci saranno dei problemi? Beh, i problemi ci sono sempre, proprietà da esportare. Quando non ci sono più problemi non siamo più su questa terra, però i problemi vanno risolti e noi siamo qui per risolvere i problemi. E quindi si vedrà, anche se in realtà, pure su questo se ne parla ormai da tanto tempo, da tanti anni. Perché è più facile parlare che fare. Fare le cose, noi per esempio abbiamo fatto tante di quelle cose che oramai non ci ricordiamo nemmeno più. Adesso abbiamo in corso il Comune, il Teatro Nuovo, abbiamo inaugurato la pista pedonale ciclabile, il campo sportivo nuovo, abbiamo fatto... Bisogna fare. La gente oramai distingue il giusto anche le appartenenze, guarda quello che fai e guarda le persone che fanno le cose buone. Non è un caso che noi abbiamo individuato la vallata nostra come una valle laboriosa, la valle del fare, perché ci sono imprese che investono anche in questi giorni, in questi momenti così difficili, drammatici, della crisi economica e della crisi del Covid. Ci sono imprese che fanno fabbriche nuove. E questo da fiducia, speranza nella prospettiva futura. E a proposito di lavoro, è sua intenzione anche far ripartire questo tavolo dedicato alla formazione e all'occupazione. Quindi domanda offerta, un incontro per quanto riguarda sindacati, imprese del territorio. Sì, io ne ho già parlato con l'assessore, che è sempre l'assessore Aguzzi, per convocare questo tavolo in cui si mettono insieme chi offre lavoro, che sono le imprese, chi cerca lavoro, che sono le organizzazioni dei lavoratori, le categorie sociali, le scuole, le scuole superiori e quindi diciamo l'obiettivo è la piena occupazione. E rimanere sul territorio se possibile, no? Perché si parla tanto di fuga di cervelli quando lì c'è tanto lavoro, lì veramente ci sono delle aziende importanti, quindi perché no? Qui ci sono aziende leader a livello internazionale, se si fa funzionare bene questo tavolo per il lavoro, ho visto che tutti quelli dove abbiamo fatto i corsi di formazione utilizzando i fondi europei hanno trovato lavoro poi, quindi spero quanto prima di riattivare anche questo tavolo perché finita la crisi di Covid, fatti i vaccini, dovremmo aver fatto anche tutti gli investimenti per recuperare tutto quello che abbiamo perso in questi mesi dal punto di vista dell'economia, perché bisogna ritornare e tornare almeno nelle nostre vallate alla piena occupazione. Lei dice che c'è già una piccola ripresa, la vede? Io penso che almeno nelle nostre zone vedo toccando con mano aziende che fanno fabbriche nuove, che ritirano le concessioni di liste, cioè ci sono dei segnali molto incoraggianti, insomma, di questi tempi 4-5 aziende che fanno capoloni nuove dovrebbero dargli il premio Nobel perché, sai, uno che investe in un momento come questo quando è difficile mantenere i rapporti internazionali per la vicenda del Covid, quindi c'è gente laboriosa, geniale, combattente che ha voglia di fare e quindi noi dobbiamo aiutarli. Parliamo di bilancio, è stato approvato, avete già fatto il piano delle asfaltature per la prossima primavera, avete già pensato di investire su qualcosa in particolare, ad esempio anche la Piazza della Repubblica, no? A Montecchio. Sì, noi abbiamo recentemente inaugurato Piazza Russini, rimessa a nuovo, a Bottega di Vallefoglia, è prevista la ristrutturazione, l'abbellimento della principale piazza di quel territorio che è Piazza della Repubblica a Montecchio e sono previste la messa in sicurezza di quasi tutte le strade comunali, dobbiamo approvare formalmente l'elenco delle strade che vanno rimesse in maggiore sicurezza, però è importante, sono circa 700 mila euro di investimenti, non abbiamo fatto, non abbiamo previsto altri investimenti perché pensiamo che gli investimenti fatti siano sufficienti, perché abbiamo fatto quasi tutto, ormai sono rimaste diciamo piccole cose, aggiustamenti, messi in sicurezza attraverso diciamo piste pedonali ciclabili, non si lamentano molto per le buche da voi? Ma devo dire che insomma c'è una buona sistemazione, non dico quasi tutto perché qualcosa rimane sempre e poi i temi anche della sicurezza che sono compiti dello Stato nazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, però attraverso la polizia locale noi diamo una mano all'arma ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia di Stato per cercare di mantenere la sicurezza delle città. Ci scrivono, lo leggo in diretta con lei, il fare va bene ma non bisogna congestionare tutto a valle come a Montecchio e Bottega, bisogna valorizzare i borghi. Nelle foto alle spalle del sindaco c'è Montefabbri, uno dei borghi più belli d'Italia. Quando iniziamo a valorizzarlo sul serio, sindaco? Questa è una grande verità, tant'è che noi parliamo anche del depuratore fognario. Il bicentenario di faremo a Sant'Angelo in Lissola di Giulio Perticari e faremo diciamo, riattiveremo, riapriremo il museo diciamo del Giovanni Santi Centro Culturale del Museo delle Muse delle Ninfe che è a Colbordolo, riapriremo il museo della Mezzadria che è a Pontevecchio e soprattutto partiranno a breve quasi due milioni di investimenti nel Monte di Colbordolo e a Montefabbri nella depurazione e nella metanizzazione. Quindi cercheremo di valorizzare tutti i centri culturali, sarà aperto il Museo Venanzi nella Chiesa di Sant'Egiglio grazie alla disponibilità del Conte Cacciaguerra che l'ha messa a disposizione per farla fruire alla comunità quindi siamo molto d'accordo penso di poter interpretare anche il pensiero della Giunta e dell'intero Consiglio Comunale nel valorizzare i borghi, le colline e l'agroalimentare perché l'agroalimentare oggi noi abbiamo un territorio meraviglioso nelle zone collinari e nei borghi storici è integro come era centinaia di anni fa si mangia da Dio si sono i pulmoni se uno pensa diciamo alla flora alla fauna selvatica che può vedere in un territorio vicino a Peso vicino a Fano perché Montbaroccio Monte Ciccardo Sant'Angelo in Lissola Monte Fabrico il Bordo quindi ecco è un messaggio che cogliamo ben volentieri quello che ha dato questo cittadino parliamo anche di turismo appunto gastronomia eventi si potrà fare qualcosa secondo lei la prossima estate ma noi abbiamo un gruppo di ragazze devo dire che stanno lavorando al portale turistico sembrerebbe strano perché la nostra città industriale è tutta diciamo concentrata sulla bassa valle insomma Montecchio e tutta la vallata purtotavia proprio per questo taglio ambientale storico culturale stiamo facendo due cose una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia e il futuro che racconta la storia dei mamiani dei dei perticari di Costanza Monti di Giovanni Santi di di tutti questi personaggi che erano la storia e il portale turistico con tutte le bellezze paesaggistiche l'ambiente la storia i posti migliori perché pensiamo che il turismo debba essere un pezzo del sistema economico e produttivo della nostra vallata quindi l'enogastronomia non è un caso ecco che il polo tecnologico sull'agricoltura e l'agricoltura da qualità e soprattutto l'alimentazione ciò che mangiamo è a tutela della salute ma anche il turista viene per la storia e per la cultura noi abbiamo due papi che sono deciduti in quell'area c'è tanta storia da raccontare il turismo religioso per chi sono diversi santi in quell'area c'è sono diversi monumenti anche ecclesiastici con tanto di quei beni culturali all'interno delle chiese che è un peccato tenerli nascosti quindi presenteremo a breve il portale turistico sembrerà strano di una città industriale della città di Vallefoglia ma è giusto anche perché ormai la prima cosa che si fa quando si parla di un territorio di una città ormai si prende il computer o proprio smartphone e si va a digitare a cercare quello che c'è in quel territorio e quindi è importante ma infatti siccome va tutto su internet noi vogliamo far vedere che non siamo solo una città industriale che punta alla piena occupazione ma avete tanto da offrire e che punta alla sostenibilità ambientale alla tutela della salute delle persone ma punta a valorizzare il buon mangiare i cibi il paesaggio l'ambiente insomma quello che il Padre Eterno ci ha dato che è rimasto quasi integro come era centinaia di anni fa nelle colline e questo è veramente per noi importante ecco oltre a questo progetto ce ne sono altri per i prossimi mesi insomma parliamo di questo 2021 ma i progetti per la verità molti sono stati sospesi pensate che di questi tempi l'anno scorso abbiamo fatto il festival dell'amore per la vita per il futuro per gli eventi sicuramente sarà un altro anno difficile abbiamo dovuto sospendere diciamo la promozione dei nostri territori agricoli e no gastronomici prodotti tipici come l'olio extravergine d'oliva il melograno tutte queste cose abbiamo in mente se chiudiamo questa vicenda del covid in maniera positiva tanti eventi che vogliamo costruire con la comunità con i cittadini e riprendere anche il dialogo perché oramai il dialogo avviene attraverso internet non c'è più piacere se mi chiamano perché abbiamo modo così di spiegarci su tante questioni assolutamente speriamo che arrivino presto questi vaccini che sono fondamentali per tutti e per cercare di uscire il primo possibile da questa pandemia io spero che tutti facciano il vaccino devo dire io sarò tra i primi non passando davanti agli altri ma quando sarà il mio turno ma già dico che farò il vaccino e spero che tutti i cittadini di Vallevoglia facciano il vaccino per la tutela di tutti noi Sindaco grazie veramente per essere stato nostro ospite e speriamo di riaverla nei nostri studi nei prossimi mesi grazie a voi e magari ci illustrerà anche il sito ben volentieri grazie e buona serata grazie di nuovo al Sindaco di Vallevoglia Parmilo Ucchielli e adesso noi ci salutiamo vi ricordo alle 22.30 l'appuntamento con il telegiornale di mezzasera e invece domani mattina alle 7 la rassegna stampa arrivederci